Cristina di Svezia, conosciuta anche come Cristina Augusta Vasa, è stata una figura straordinaria della storia europea. Nata a Stoccolma il 18 dicembre 1626, Cristina salì al trono svedese all'età di soli sei anni, dopo la morte prematura di suo padre, Gustavo II Adolfo. La sua reggenza effettiva iniziò nel 1642, quando raggiunse la maggiore età. Ecco alcuni aspetti salienti della vita e del regno di Cristina, i primi anni. Educata dal potente alto cancelliere Axel Oxenstierna, Cristina fu istruita in modo virile, più come un principe che come una principessa. Figlia di uno dei massimi difensori del protestantesimo durante la guerra dei Trent'anni, Cristina crebbe in un'epoca di conflitti religiosi e politici. Il regno, durante il suo regno, Cristina si impegnò per far diventare Stoccolma L.I. Atene del Nord sostenne le arti, la cultura e la filosofia, cercando di trasformare la Svezia in un centro intellettuale. La decisione di non sposarsi, Cristina scelse di non sposarsi, sfidando le aspettative dell'epoca. Preferì dedicarsi agli studi e alla politica anziché alle questioni matrimoniali. La religione e le visioni personali, nel 1654, nel pieno di una profonda crisi religiosa, Cristina si convertì al cattolicesimo. Questa decisione provocò uno scandalo e portò alla sua abdicazione in favore del cugino Carlo Gustavo, che divenne Carlo X. L'esilio. Temendo le reazioni dei protestanti, Cristina lasciò subito la Svezia e trascorse il resto della sua vita in vari paesi d'Europa. Si stabilì infine a Roma, dove si dedicò all'arte, alla musica e al teatro. La regina di Roma, nel suo palazzo a Roma, Cristina creò un ambiente culturale vivace e sostenne artisti e intellettuali. Tentò persino di salire al trono napoletano, ma senza successo. La morte e la sepoltura, Cristina morì a Roma il 19 aprile 1689. Fu sepolta nelle grotte vaticane. Aspetto fisico e comportamento, Cristina era una personalità complessa e anticonformista, dotata di viva intelligenza e solida cultura umanistica. L'abdicazione di Cristina di Svezia fu un evento straordinario e controverso nella storia del paese. Ecco alcune considerazioni sulla reazione del popolo svedese, sorpresa e scetticismo. Quando Cristina annunciò la sua decisione di abdicare nel 1654, molti furono sorpresi e scettici. Era insolito per un sovrano rinunciare al trono, soprattutto una regina giovane e potente. Motivazioni e speculazioni, le motivazioni di Cristina per l'abdicazione sono state oggetto di speculazione. Alcuni credevano che la sua conversione al cattolicesimo fosse la ragione principale, mentre altri ipotizzavano motivi personali o politici. Critiche e apprezzamenti, alcuni svedesi la criticarono per aver abbandonato il paese e la fede protestante. Tuttavia, c'erano anche coloro che apprezzavano la sua audacia e il suo spirito indipendente. Eredità storica, nel corso dei secoli, l'abdicazione di Cristina è stata oggetto di dibattito tra gli storici. Alcuni la vedono come una figura eccentrica e ribelle, mentre altri riconoscono il suo ruolo nell'aprire nuove prospettive culturali ed intellettuali. Per quanto riguarda le opere d'arte legate a Cristina di Svezia, alcune delle più famose includono, ritratto di Cristina di Svezia di Sébastien Bourdon, questo ritratto, conservato al National Museum di Stoccolma, cattura l'essenza di Cristina come sovrana e intellettuale. Endimione, una favola pastorale in italiano scritta da Cristina stessa. Sebbene non sia un'opera d'arte visiva, è un esempio della sua creatività e interessi letterari. Monumento commemorativo della visita di Cristina di Svezia al Campidoglio. Questo monumento è oggi conservato presso i Musei Capitolini a Roma e commemora la visita di Cristina in questa città. Queste opere riflettono la complessità e l'influenza di Cristina di Svezia nel panorama culturale e artistico del suo tempo.